Benvenuti all'ultimo appuntamento settimanale con l'informazione del TG News 24. Abbiamo raccolto per voi e sintetizzato in questi servizi quanto di più importante è accaduto nelle ultime ore. Sono 5.497 nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 33.961 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 16,2% ieri al 16. L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 223.672 con un incremento di 1.251 casi. I guariti sono 5.380 mentre le vittime sono 25. Portano un totale di decessi a 9.721. Sul fronto ospedaliero sono 933 ricoverati gli stessi casi rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 65, un caso in più rispetto a ieri. Vi avevamo anticipato la notizia qualche giorno fa. Ora, grazie ad un appunto stampo della questura di Trapani, possiamo fornirvi maggiori elementi circa l'arresto da parte della polizia di Marsala di un giovane che deteneva 1,2 kg di cocaina. Gli agenti, infatti, del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala, nella serata di lunedì 7 marzo scorso, nell'ambito di una vasta operazione di controllo del territorio, ha tratto in arresto un giovane per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione di polizia, condotta dai poliziotti marsalessi, si inserisce in un complesso progetto finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro lilibetano. Gli agenti delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala, durante un controllo effettuato in un'arteria cittadina, provvedevano al fermo di un'autovettura condotta da un giovane del luogo, le cui iniziali sono GR, il cui anno di nascita del 1990, il quale, all'atto del controllo, mostrava evidenti segni di insofferenza, tanto da indurre gli agenti ad effettuare una perquisizione all'interno dell'autovettura, all'esito della quale venivano rinvenuti due involucri trasparenti, contenenti sostanza stupefacente dal tipo cocaina, per un peso di 1,2 kg, la somma di circa 6.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, numerose bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente, alla luce delle indagini quantitative di cocaina rinvenuta. Il giovane veniva tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione, fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di Marianna Musotto, 36 anni, musicista palermitana, indagata per istigazione alla corruzione. Il provvedimento è stato emesso dal GIP e dal Tribunale di Trapone, su richiesta della procura. Musotto è accusata di avere promesso una tangente di 50.000 euro per un evento musicale. Sarebbe stata la somma offerta da un intermediario, l'assessore regionale siciliano al turismo Maglio Messina, che però non solo ha rifiutato, ma ha denunciato tutto, e incastrato presunti mandanti e l'intermediaria. Il Museo Lilibeo di Marsala potrà ritornare a far splendere la sua statua di Venere, che mancava da circa un anno e mezzo. Il nuovo allestimento, che si è reso necessario a causa del precario stato di conservazione nel piano d'appoggio dell'opera, ne migliora sicuramente l'esposizione, valorizzando il guscio che l'architetto Minissi aveva progettato per il museo nel 1986 e che accolse per un breve periodo anche l'auriga di Mozia. E' salita al cielo la signora Giuseppa Pellegrino, mamma del dottor Trapani Giuseppe Salvatore, nostro collaboratore medico di Canale 2. La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 12 marzo, nella chiesa San Giovanni Bosco dei Salesiani a Marsala, alle ore 11.30. Canale 2 esprime le proprie sentite condoglianze. Adesso spazio agli spot commerciali. Marzo Pazzo da Bianco Market Accappatoio Spugna Liabel, 9,99 euro Trapuntino Stampato Singolo, 3,99 euro Trapuntino Matrimoniale Compizzo, 7,99 euro Tovaglia Nosti Romaiolica, 3,99 euro Set 3 più 3 Asciugamano più ospite, 4,99 euro Coppia Spugna Liabel, 1 più 1, 3,99 euro Bianco Market, a Marsala in via Mazzara 170 e a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87 Offerte valide fino ad esaurimento scorte Arreda da raid eredamenti Cucine componibili con finiture e materiali di pregio a prezzi imbattibili Munite di cassetti, cessioni e anche con chiusura ammortizzata Elementi a giorno funzionali e di design Vieni in showroom e troverai l'arreda che fa per te Raid eredamenti, qualità al giusto prezzo Siamo in via Roma 122 a Bicetta Polizzolo Seguici sui social e visita online raid eredamenti.it Per un evento o una cerimonia di gran classe Scegli la tradizione e l'esperienza di Baglio Borgesati Ricevimenti Da sempre Baglio Borgesati Ricevimenti Ospita i tuoi momenti da ricordare Baglio Borgesati Ricevimenti Ampliato con un meraviglioso giardino per darti il massimo dell'eleganza Tradizioni e modernità si sposano in un ambiente unico e raffinato E per la tua notte di nozze Una bellissima suite all'interno del nuovo albergo Baglio Borgesati Ricevimenti A Salemi, l'inizio della tua storia d'amore Marzopazzo da Biancomarket Coppia federe in cotone irge 3,99 euro Salva divano 2, 3, 4 posti 9,99 euro Salva poltrona 7,99 euro Strofinacci in spugna disegno missoni Confezione 3 pezzi 2,99 euro Biancomarket A Marsala in via Mazzara 170 E a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87 Offerte valide fino ad esaurimento scorte Per una corretta visione Risintonizza il tuo televisore o il decoder Canale 2 sul canale 297 Canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre www.canaleduetv.com Canale 2, canale 297 E canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre Risintonizza automaticamente il tuo televisore o il decoder Sarà tutto un altro vedere Occupiamoci adesso di sport Eccovi a voi la pagina sportiva del nostro TG Domani con un anticipo Oggi si giocherà la ventiquattresima giornata del campionato di eccellenza Questi gli incontri Cus Palermo Acragas alle ore 15 di sabato Poi domenica Castellammare Enna Casteltermini Sciacca Don Carlo Misilmeri Parmonval Mazzara Oratorio Sencire Giorgio Monreale Nissa Profavara Dolce Onorio Marsala Canicattì Mazzarese rinviata per questioni legate al Covid Una giornata calcistica in cui ormai appare chiaro il predominio in questo campionato del Canicattì Con 11 punti di distanza dall'Acragas Non giocherà a questo incontro ma sicuramente verrà recuperato in una gara infrasettimanale Per quanto concerne le parti basse della classifica Vedono interessate due squadre della provincia Ossia il Mazzara e il Dolce Onorio Marsala Ma mentre Mazzara si trova in quintultima posizione E teoricamente dovrebbe disputare pre-auto Ma per la distanza con la penultima Che sarebbe il Dolce Onorio Marsala Che supera le 10 unità in termini di punti E allora la squadra canarina si può considerare salva Gli basterà vincere qualche altra partita in casa Superare i 30 punti per guadagnarsi il pass Alla partecipazione del prossimo campionato di eccellenza Per la stagione 22-23 Dolce Onorio Marsala Tenuto in corsa salvezza Soltanto perché Casteltermini e Monreale Non riescono a far di meglio Due società che giocano con tanti giovani Che non hanno possibilità economiche Dolce Onorio Marsala allo sbando Non ha una conduzione tecnica Abbiamo sentito nelle scorse settimane L'ex mister D'Angelo Che ha rassegnato le dimissioni Perché ha raccontato una serie di situazioni organizzative Della società Paragonandola praticamente con tutto rispetto Dice D'Angelo ad una società di terza categoria E sicuramente una società organizzata in questo modo A prescindere dalla penultima posizione in classifica Di certo non può rappresentare la città di Marsala Nonostante tutto il nome dichiarato in federazione È quello di Dolce Onorio Che sarebbe l'azienda riconducibile al proprietario della società Marsala perché ha sede legale a Marsala E quindi naturalmente è una società Che prova a salvarsi Guardando che davanti due formazioni Non riescono a fare di meglio Ma sicuramente diciamo così Che sarà tutto molto proibitivo E poi raggiunta la salvezza Diciamo così Non vediamo prospettive all'orizzonte Ormai il Cusso Palermo invece con otto punti Sembra anche se matematicamente non è tagliato fuori Comunque sembra non avere le risorse Per poter provare ad arrivare al quart'ultimo posto Staremo a vedere Naturalmente la gara proibitiva È quella del Dolce Onorio Che andrà a giocare in casa del Profavara Profavara che vuole guadagnare un posto ai playoff Alla ricerca dell'impresa Comincia la fase saliente della stagione sportiva Del calcio femminile Marsala E comincia nella tana della corazzata Academy Sant'Agata In quella che è la terza ed ultima giornata Del triangolare B di semifinale Di Coppa Italia di eccellenza semifinale Fase regionale Capitan Federica Cucuzza e compagni Si andranno a giocare a Sant'Agata di Militello Le residue chance di accesso alla fase regionale Che domenica 20 marzo Assegnerà il primo trofeo della stagione Partita proibitiva Con le azzurre che andranno a giocarsi questa gara E che dovranno obbligatoriamente vincere In caso di pareggio saranno le padrone di casa Passare il turno I precedenti stagionali Non sorridono alla libertane Che sono state sconfitte in campionato Sia all'andata fuori casa Che al ritorno fra le muramiche Più in generale L'Academy ha vinto tutte le gare stagionali Tra campionato e Coppa Fatta eccezione per una sola sconfitta in trasferta Sul campo del Monreale in campionato Quattro partite e quattro vittorie Questo è il consultivo del campionato regionale Under 15 maschile Della SD Pallamano Marsala Guidata dal plurinazionale italiana Graziano Tumbarello Che sta raccogliendo i frutti Di un lavoro attento e minuzioso Cui il nuovo tecnico Sta sottoponendo i suoi giovanissimi atleti Dopo i fasti delle sue presenze Nella nazionale italiana di Pallamano Che lo ha visto protagonista Con ben 48 presenze Graziano Tumbarello Ha intrapreso con grande passionalità E tenace il nuovo ruolo di coach In questa giovane società sportiva I risultati se il pur Nel breve tempo disponibile Si cominciano a intravedere Di partite in partite I giovanissimi atleti Stanno dimostrando di acquisire Gli insegnamenti e di migliorarsi Sia dal punto di vista tecnico Che agonistico Vincendo con la Leali Marsala Nell'incontro di andata E anche nell'incontro di ritorno Con il giovanetto Petrosino E contro il Villauria Palermo Termina qui l'appuntamento Con l'informazione di TG News 24 Vi ricordo di seguirci Attraverso il nostro portale di informazione Canale2.com E attraverso i social di Youtube E Facebook Grazie e buon sabato a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.